Carissimi sostenitori della Sir Susa Vim Perugia, buon pomeriggio. Ecco, questa è la quarta Coppa Italia che abbiamo conquistato. È un ennesimo trofeo che ci vede trionfanti in Italia e nel mondo. Da Bologna, possiamo dire da Bologna a Bangalore, Perugia vince e vi dico che è una bella distanza. Siamo orgogliosi tutti quanti di questo bellissimo momento di questa società. Sir Susa Vim Perugia ringrazia quelli che sono due importanti formazioni. I tifosi, i tifosi che in mille sono arrivati a dare quello spettacolo meraviglioso a Bologna e che hanno fatto capire la dimensione di quello che è il fenomeno Sir Susa Vim Perugia a tutto il mondo. Perché a Bologna ci guardavano da tutto il mondo. E poi devo ringraziare quelli che hanno finanziato questo spettacolo meraviglioso. Cioè gli sponsor. Dal primo, che sono io, la Sir, agli ultimi, a quelli che tirano fuori magari 10.000 euro. Ma che lo fanno con amore, secondo quelle che sono le proprie possibilità. Grazie a tutti, i grandi, i medi e i piccoli sponsor. Perché con questo voi avete fatto una cosa meravigliosa. Avete reso una regione, avete messo una regione sopra tutto quanto. Nella pallavolo Perugia è una grande cosa. E questo siamo noi. Siete voi grandi, medi e piccoli sponsor. Complimenti per tutto quello che avete fatto. Viva la pallavolo, viva la Sir Susa Vim Perugia.